Questa scenografia merita una ripresa dall'alto, se continuate vi faccio un video contro uno. Questa scenografia merita una ripresa dall'alto. 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 Grazie a tutti. 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 Allargatemi un po' ai radi, fate fare la funzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un applausi un applausi di ringraziamento a questa squadra. Grazie a tutti. Grazie.